Rieccoci, ciao a tutti e benvenuti. Sono stato raggiunto ieri sera da molti messaggi preoccupati ai tifosi del Milan per Midt-Inland-Benfica, la gara di qualificazione Champions fra i danesi e i mitici portoghesi di Luicosta del Daluz di Lisbona. Il Midt-Inland è stato eliminato, ha perso e molti mi hanno scritto cattiva prestazione di Oniedica, è vero che il Benfica è tecnico per Oniedica eccetera eccetera eccetera. Ora io devo confessare candidamente, apertamente, colpevolmente di non aver visto la partita, quindi non posso tranquillizzare nessuno e non ho argomenti per controbattere, non ho temi nel merito, però qualche considerazione di carattere generale la si può fare, può capitare a qualsiasi giocatore di far male una partita. Io non so se Oniedica verrà al Milan o meno, non lo so minimamente perché non mi risulta che il Milan sia in trattative avanzate per il giocatore. Certo c'è un'attenzione, c'è un monitor acceso ma per il progresso, per tutta una serie di prestazioni, di valutazioni sul rendimento, di caratteristiche che si sono manifestate nel tempo. Poi la partita può sempre capitare, non voglio fare nessun tipo di confronto che non è possibile fare per altro, per caratteristiche, per ruolo, per epoche, per nazionalità, per tutto quello che volete voi, però quando il Milan tanti anni fa andò a visionare Shevchenko nella Dinamo Kiev, Shevchenko gioco male, però tu comunque pur in una partita negativa le caratteristiche le valuti e le vedi, poi ripeto, nessuno ci può dire se in questo momento Oniedica potrà venire al Milan o meno. Intanto lasciatemi ricordare OneFootball, OneFootball a vostra disposizione, l'app di OneFootball è nella descrizione di questo video, c'è il link, scaricate gratuitamente l'app di OneFootball, stiamo parlando un po' di calciomercato a livello di rumors e se scegliete il Milan come squadra preferita l'app di OneFootball vi aggiorna con tutti i rumors di calciomercato del Milan di qui alla fine di agosto, di qui alla fine del resto del mercato, scaricate l'app di OneFootball, l'app di OneFootball vi aspetta. Per quanto riguarda invece il resto del mercato, come vedete ci sono ancora tanti nomi, quindi siamo a livello di tuoni, non di pioggia, ci sono ancora tanti nomi, ieri c'è stata la voce su Illich, però Illich è un tipo di giocatore diverso dal centrocampista ad esempio di esplosività, perché molti di voi mi ricordano giustamente l'intervista di Stefano Pioli, mica l'ho dimenticato, l'intervista di Stefano Pioli, poi Stefano Pioli è pronto a fare comunque, cioè la necessità virtù è una caratteristica specifica di Pioli e del suo staff, però quando si è dovuto parlare di obiettivi di mercato, dell'esigenza di un difensore, dell'esigenza di un centrocampista, Stefano Pioli ha parlato e mica la ignoriamo questa cosa, mica ce la dimentichiamo, è un po' così, poi bisogna fare i conti con tutte le variabili e le opportunità di mercato, ma è un po' così, però Illich è un buon giocatore, è un buon giocatore di incursione, di giocatore box to box che fa del lavoro anche in mezzo, però giocatore diverso per caratteristiche ai giocatori che per caratteristiche possono essere accostati a che sì, per cui ripeto, siamo proprio nel momento ancora delle voci e quando ci sono tante voci sul mercato è bene star tranquilli, quando poi si vede che la trattativa viene focalizzata, quando poi si vede che dal rumor puro e semplice si arriva al contatto e magari alla trattativa un po' più avanzata, allora lì si può dire qualcosa, come per quanto riguarda il difensore, ripeto, per quanto riguarda Tanganga da come è stata un po' condotta si è ormai allontanato dai nostri monitor, perché qui stiamo parlando di monitor, non di scrivanie, quando parliamo di scrivanie, quando parliamo di contatti allora c'è trattativa, ma quando i monitor sono accesi sui vari giocatori, i monitor durante un mercato sono accesi e rimangono sono accesi su un migliaio di giocatori in un grande club, quindi l'attenzione è abbastanza fine a se stessa, per cui vedremo, vedremo quello che accadrà ma Tanganga mi sembra francamente, uscito anche per il tipo di vicenda che ne è nata, è stato tante voci su di lui, di varie squadre proposto, quindi va bene così, invece su Diallo mi sembra che ci sia un sottotraccia, anche perché il Paris Saint Germain non lo sta utilizzando, è di fatto un esubero del Paris Saint Germain, però di cui a parlare di passi avanti in direzione Milano, no, io non me la sento e quindi vale la pena tendere voci un po' più consistenti, un po' più stabili. Tenendo conto che in ogni caso i quattro difensori in questo momento ci sono, tenendo conto del fatto che Matteo Gabbia ha bisogno di minutaggio e Simon Chier è un giocatore di grande qualità, di grande carisma, di grande tecnica, di grande rendimento, di grande valore, di grande orgoglio, però è chiaro che un minimo di gestione Simon Chier la comporta e della gestione di Simon Chier parlo non necessariamente dal momento dell'operazione, dal legamento crociato in poi, ma anche prima, perché la gestione di Simon Chier è sempre stata fatta con attenzione a Milanello, sia per la cura del giocatore nella gestione del proprio corpo e dei propri movimenti, che da parte dello staff nella gestione delle partite e degli impegni, già prima dell'operazione al legamento crociato del ginocchio dei primi giorni dello scorso mese di dicembre del 2021. E quindi vedremo evidentemente che cosa potrà accadere, perché poi è chiaro che quello che mi sembra chiaro è che se ci saranno davvero alla fine due operazioni, io non lo do per scontato, però se ci saranno, come tutti i tifosi si augurano, ebbene sì, come anch'io mi auguro, non mi nascondo dietro un dito, due operazioni di qui alla fine, ma non tanto per fare, fatte con la convinzione del Milan e con la mano del Milan, non tanto per fare. Si saranno davvero due operazioni, una sarà con un certo tipo di investimento in denaro, l'altra con prestito di riscatto, cioè se fai in prestito con diritto al centrocampista puoi investire qualcosa sul difensore e viceversa. Poi magari saranno due investimenti o due prestiti, non lo so, però come idea mi sono fatta questa. Per cui in difesa ci sono comunque dei movimenti, dicevamo questa mattina nella chiacchierata sempre qui del confronto per il rinnovo di Tomori, sempre importante, perché Fic è una delle colonne di questa squadra, non soltanto dal punto di vista tecnico-tattico, ma dal punto di vista proprio della robustezza dei valori che ci sono dentro il nostro spogliatorio, un bellissimo punto di riferimento. Di Tomali vi ho detto che è una fake e nulla di più, quindi non è nemmeno una smentita, è una fake, segnalo una fake, non smentisco nulla. Per il resto, naturalmente, tutto è finalizzato alla partita con l'Udinese, perché c'è l'Udinese, ma Ken Go, poderoso, tosto, centrocampista dell'Udinese, ci ha detto andiamo a Milano per vincere. E fa bene a dirlo, e facciamo bene noi a registrarlo, e faccio bene io a segnalarvelo. Perché, ragazzi, con tutte le cose che succedono ogni giorno nel Milan e che catalizzano la nostra attenzione, sabato alle 18.30 c'è Milano-Udinese, tre punti in palio contro un avversario tradizionalmente tosto e ostico. Per cui il livello di allerta, il livello di attenzione, il livello di energia dentro tutto l'ambiente deve essere molto alto, perché arriva un avversario che noi dobbiamo affrontare al massimo, altrimenti le partite poi si complicano, e questo lo dobbiamo sempre sapere, vale per qualsiasi nostra partita. Ciao a tutti.